E niente, salve signori cuperiani Sento già gente, oddio è vero, non è che c'ho la mira Eeeh, è brutto iniziare a fare le cose nel gioco, eh Allora, siamo tornati su Escape nella speranza che non... non desinchi, non cosi L'ultima volta che ho provato a fare una partita desincavo di 11 secondi E quindi nulla, nella speranza che mi venga registrato l'audio del gioco E niente, allora, io qua ho delle... Ok Io qui ho delle impostazioni, perché ho... ho messo Windows 10, no? E quindi niente, ho reinstallato il gioco e... deve... insomma Eh, non mi ricordavo di dover cambiare queste impostazioni Quindi se tengo per... insomma, se clicco una volta mi mira Se clicco una volta Shift mi corre e niente Ora Se Dio vole Qui ne ho ucciso uno Oh, guarda cosa aveva I video ora li vedete in 7,20 perché l'ho messo in risoluzione in 7,20 Insomma, perché... insomma, 1080 per 7,20 perché così non ci sono le bande nere E... niente, poi è tutto sempre più bello E... questo... discard... sta già iniziando a laggare Sta già iniziando, sono contento Perché non me lo discardi allora, eh? Allora non stai laggando Pezzo di merda, che mi fai credere Mi mancava tornare su escape Poi adesso sembra che stia andando abbastanza bene E quindi, ok Allora, mettiamolo nel 4 e nel 5 E... ok, ho un po' di colpi La pistola ce l'ho piena Questo ce l'ho da... E... insomma, io l'ho distrutto completamente E quindi fa un culo tutto Ok, sto shotgun c'ha la torcia Ottimo per accecare gli avversari Ok, io sono spawnato tipo con quel coso morto davanti E... scherzi Che cazzo Ok Ok Va bene Va bene Cioè, non per fare il pezzo di merda Ma io uscirei anche così Perché il fatto è che ora c'è stata la prima uccisione Non dessincata E quindi, eh... super contento sono come Cazzo, c'è uno Qui da qualche parte Ok Apriamo E... qui hanno chiuso Ok Non c'è nessuno, bene Vediamo Ok Ok, sì Non sembra stia lag... insomma Laggando Cosando, eh Quindi, insomma Ci siamo portati a casa Totalmente a caso Una K Eh, 0 XP Grazie Sono contento, dai Non aver preso nulla Ho ucciso uno Almeno un po' di XP Per il loot Per la K Che ho preso Oh, madonna Cioè La mia prima K In questo... Non ho preso La cazzo Di roba Porco Ma vi pare Una vita che non gioco a sta merda E arrivava da fare scav E mi dimentico che c'era da buttare Ma vaffanculo Che Quando Ho il loot Non lo... Non lo salvo E poi quando E non ho manco cambiato le impostazioni Ma vaffanculo Non mi riesce a giocare Con ste impostazioni Di merda Cioè Shift Che cazzo è che lo tiene Cioè Che lo clicca una volta Mi era allora Allora Qui si picchiano Qui si picchiano Dove sono scomparsi? Sono scomparsi gli uomini Che si picchiavano What the fuck Va bene Ok Intanto si sparano Io ho le impostazioni Ovviamente messe male Allora 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 Porca Di quella Porcona Allora Sembra di star laggando Si sto laggando Bene Perfetto Bravo Bello Gioco Madonna Che Sti merda Di dev Stanno pensando Solo ad aggiungere cose Non a migliorare I server Mi fa piacere Allora Vediamo A mio rischio e pericolo Con questo vado Con lo shotgun Quello semi automatico Sono curioso di vedere Allora Che cazzo Ah e va Vangulo E vabbè E vabbè Io Lui era dietro il coso Va bene Ok Va bene Va bene Subito Così Si parte Quindi è impossibile Giocare a questa merda Quindi continuiamo Ne facciamo un'altra Così andiamo a riperdere Un altro shotgun In quel momento Non ho capito bene Se era stato un momento Di desinco Un momento solo di merda E vaffanculo Dai Che cazzo di spawn Ok Però sto shotgun Ha solo quattro colpi Che cazzo Vedete come cazzo Desinca Dai ma non può Ogni server Fare così E io non è che Non posso portare Sempre video di escape Perché fa così Sto gioco di merda Ci rinuncio Ci rinuncio Credo che sto gioco Non lo vedrete più Per un bel po' di tempo Quindi se vi siete iscritti Perché Siete iscritti Perché Insomma Vi siete iscritti Per escape Mi dispiace Ma adesso Questa è la situazione A parte la prima Che vabbè Mi sono dimenticato Io di prendere La roba Però alla fine Anche se la prendevo Cioè che cosa cambiava Il desinque c'è Nella prima partita Non c'è stato E dopo Avete visto anche voi Io Sono passato subito Io dovevo morire E poi lui invece è andato a sparare Dalla parte in cui stavo venendo E mi ha ucciso Quindi Quindi nulla Non c'è niente da fare Io aspetto Qualcosa Un aggiornamento Di server Di qualcosa Perché attualmente Ho buttato via 150 euro E sono veramente contento Quindi credo che Forse escape Verrà sostituito Con survive the night Quando uscirà Ho comprato Anche Fortnite Quindi Vediamo Magari se portiamo Anche quello Oppure no Adesso Non so Non so Se usciranno Dei video Con le copertine Non lo so Perché ho messo Windows 10 Mi manca Photoshop Lo dovrei rinstallare E vabbè Vediamo tutti Quindi niente Io Spero Con quest'ultimo video Di avervi fatto capire Veramente Perché magari Non sto portando escape Perché vedo che Comunque Ovviamente i video Che andavano di più Erano quelli di escape Perché questo Canale È nato Con quel gioco Che all'inizio Era un capolavoro Nell'alpha E la beta Fa cacare Cioè No Non Non è possibile Che sia una cosa Del genere Però Vabbè Quindi Che dirvi Io vi saluto Ci vediamo Nei prossimi video E niente Quindi Essendo che Questo gioco Non lo porterò Per un bel po' Fino a che Non lo sistemeranno Perché adesso È impossibile Almeno Per me È impossibile Magari c'è Tanti di voi Che non lag Ma per me È impossibile Perché Non è che Io dico Puttanate Lo vedete Comunque Che in Tutti i video Che fo C'è Roba del genere Quindi Eh Quindi niente Io vi ringrazio Per la visione Ci rivediamo Nel prossimo video Ciao